Questa nostra attività cominca la... Partirà domani, giovedì 28 gennaio, a Pesaro, lo screening per studenti e personale delle scuole superiori. Una grande operazione di prevenzione promossa dal Comune, assieme a Dail, Pesaro, Croce Rossa, Protezione Civile, Aspes e Provincia. E che coinvolgerà 8.478 studenti, per un totale di 367 classi, 1.117 membri, suddivisi tra docenti e personale ATA, 35 tra medici e infermieri ed altri 50 volontari, tra Croce Rossa e Protezione Civile. L'orario sarà 8.30-13.30. Gli istituti coinvolti saranno il Cecchi, Mengaroni e Campus Colastico. Ovviamente al Campus Colastico andranno al Liceo Scientifico tutti gli istituti che fanno capo al Campus Colastico. Al Mengaroni andrà la Nuova Scuola e il Liceo Mammiani, quello che è dislocato centro e mare. Nella giornata del 28 gennaio sarà possibile per il personale ATA e il personale docente, dalle 14.30 alle 18.30 effettuare il tampone al Campus Colastico, sempre alla palestra dello Scientifico. Sarà necessario compilare il modulo per i ragazzi minorenni e non solo, ma anche per il personale ATA e il personale docente. Per noi è stato un grande risultato, invito tutti veramente a partecipare, pensiamo non solo a noi stessi, ma pensiamo alle tante persone che ci stanno vicino. L'operazione sarà ripetuta venerdì 29 gennaio. Gli screening saranno eseguiti al mattino al Campus Santa Marta e Mengaroni. Negli stessi siti è in programma anche il secondo turno, previsto per il 2 febbraio, mentre il 3 febbraio si terranno i test al Campus Cecchi e Mengaroni. I nomi degli eventuali positivi individuati verranno trasmessi da Ail Pesaro direttamente all'Asur, che attiverà il classico protocollo di isolamento. È una grande operazione questa, credo che il merito vada soprattutto al Comune, ma per quanto riguarda l'Ail il merito va soprattutto ai nostri angeli, che sono questi medici che hanno accettato subito questa proposta che è arrivata dal Comune e poi anche dal loro Presidente. Il Sindaco Matteo Ricci parla di grande operazione sociale che permetterà agli studenti di rientrare a scuola in sicurezza. Se ci sono dei ragazzi asintomatici che vanno a scuola, inconsapevolmente rischiano di infettare altri ragazzi e le loro famiglie. Quindi è un servizio importante che facciamo grazie a soggetti straordinari che si sono messi a disposizione. Tutti sanno che un'iniziativa che poteva e doveva fare la Regione, la poteva fare in tutte le marche, perché gli studenti marchigiani sono tutti uguali e hanno tutti la necessità di andare a scuola in sicurezza. Parte tecnico dell'operazione, Aspes, che ha già consegnato la prima tranche di tamponi, circa 4.500. Già questa mattina sono stati consegnati al personale del Comune che assieme ai dispositivi di protezione individuale che i volontari dell'Aile e della Croce Rossa utilizzeranno per fare gli screening nelle scuole. Grazie a tutti.